Ma Saitama al mid con me, allo più dietro, gli altri due flank Sai al mid, porta due birre Allora, volete sentire i nomi più strani usciti finora? Allora Best chiama Saitama Sai Mi dice Sai, Sai E poi ieri, mi ricordo chi E poi ieri, qualcuno chiamava boss, al posto che boss, Big Ma non è la sinistra? Sinistra, domanda Io a Big, boss, io a Big Io a sinistra A Big lo chiami, non boss Sto facendo un attacco su Clash, un secondo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, the battle has begun Dai Fabio Eh, un secondo, dai Come hai fatto Ricky? Io sto a cercare il Cavaliere Aspetta, hai, hai, lusciati Lenk Allora, non mi sembra No, raga, dobbiamo andare sul Mi ha già matto tutto quello di puttana, sono arrivato Disfruttito Ok, ocello 있죠 In di là in destra giù in northern Ma vi è partito imbibili vediamo Siamo Sono e e La legge Non c'è Lo Non c'è Bello Rover 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 Cameron C Francaldia Azz Si No Ma Tu Non c'è No Hai Raga voi arrangiatevi, io devo pensare a prendere il pelo, cioè non mi paro io, non faccio Vai o tu, lo vedi E' curato assomiglio Io sono Fernando Ho fatto un'azione della madonna raga, sono morto Li tranco, li tranco Dove vai? Non andare La pitta è ben seguidione raga Fammoglio male, fammoglio male Che? Non me lo dirò raga Guardate il muro raga Fernando Si se è nato però a saltare però Che saltare Raga c'è la final Dai 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 C'è Pippe qua dietro raga Pippe lo seguiamo vai Dai No No ragazzi Oh le fa ancora in vita, non ce l'ho io crede Morto Androxxus Morto Androxxus Morto Androxxus Che carino raga Vedi meglio, appena non lagga si gioca molto meglio Vedi meglio, appena non lagga si gioca molto meglio Eh amore sto finendo Ok Ah si, 5 attività, lì ti spiega praticamente quelle pavete sbloccate 5 5 4 3 2 1 A livello di campioni A sinistra 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 8 7 8 9 9 11 10 10 12 12 Ma che ho introdotto il video? Che pari? Eh lo so ma a me mi dice a me anche tra un giorno Avrò ticcato male Io prendo... Grazie! Sì, non ci stai ancora per me Stai dietro il mio scuro Sì, dietro il mio scuro con le dita l'alloscuro e allontanati Ale, quanti negli per tenati? Sempre il coso della morte Ale, quanti negli per tenati? Sì, sto facendo il tredicesimo Oh, stavo parlando con te Ma me lo spetti, dove c'hai teo? Ma è giusto, ormai è diventato un rompicoglione Madonna mia Ma non è vero, adesso ti muto e vedi come faccio il mio scuro Oh che palle, porco sclero Sono tutti qua, raga Dimenticato Dimenticato con un rogantello Allora, vabbè Sì, si, non può stare rogantello Mi ha giocato un po' No ma non muore il suo gru, però Non muore il suo gru Allora, questa è l'azione della vita, prima Sì, stessa cosa, mi sa che mi danno il top fly Sì, non so perché ho qui Sì, ma sai dritte Ho fatto dritte Anche io 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 C'ho qui la final Stai sempre dietro di me Tu dove? Ah Puscia 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 Stai lo scudo da dove? Buon perfetto Stai incoglionito Mi ha messo Stai recuperando scudo C'ho scattato al 100 danno di più in fire Poi siamo 3 Ecco lì, abbiamo Ok, sono morto Questa è spesta di che arrivo Bravo Guardi Sì, sì Gli dico Molto bene con pip È quello che mi ha rotto più le palle Infatti Oh no, cazzo! Ehi, c'è un bel, però, va anche da solo il muoto! C'è un po' di tanto, distruggetelo, buono! Oh! Qua dica, distruggetela. Androccis morto! Distruggire la pietra intera, dove? Distruggire la pietra intera! Oh! C'è qua, c'è qua, c'è qua! Oh, c'è qua! Oh, enough! Sono tutti morti, sono tutti morti! Ma rilascio, resta! No, no, no! è un sacro si deve stare bravi ottimo destra 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 brava mia chi è io ha fatto l'assista a sinistra e non l'ha chiamato non lo so dai che c'è io dai no vaffanculo a me sa quella triple è la che si siamo fatti tutti insieme non ho visto la ultima oh scudo ah si 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 sono bloccati tutti io ero dalla quarta forza che sparavo e poi ero a me sono stati bloccati ehi guarda io tutti i heal sono perso qual è il nara? aiuto scegli tutti qua quella forte l'abbiamo perso eh l'abbiamo perso eh l'avevo da solo tocca a qualcuno si è imparato a usare un'idea un dito al culo chi? beh olha